E' tornata a parlare padre Graziano dopo la condanna in corte d'assisa 27 anni per omicidio ed occultamento di cadavere. Il religioso agli arresti domiciliari nel convento romano dei premostratensi fino a sentenza definitiva ha rotto il silenzio ai microfoni della trasmissione pomeriggio 5. Il frate ha ribadito ancora una volta la sua innocenza, ho sempre detto chi non l'ho ammazzata non ho sequestrato nessuno, è difficile per me dire se guerrina è in vita o se lei sia morta e dove sia il suo corpo. Ha poi aggiunto devono chiedere al PM che ha fatto le indagini se è viva o morta e se è morta dove è il suo corpo. Il religioso ha poi parlato del suo rapporto con la casalinga scomparsa, avevamo un rapporto normale da parrocchiana con il suo parroco e poi riferendosi alla famiglia della cinquantenne ha aggiunto io pensavo che fossimo diventati come una famiglia. Ed ancora riferendosi alla sentenza che lo ha condannato in primo grado per l'omicidio della casalinga ha detto la libertà è una virtù fondamentale per una persona o fiducia nella giustizia e nei miei difensori che non smettono mai di cercare una nuova strada per questo processo. Infine il religioso ha rivolto un pensiero al figlio di guerrina Lorenzo Alessandrini, è la persona più triste di questa vicenda ma io non posso far tornare la sua mamma, io non ho portato via nessuno, prego per lui e per me perché anche io soffro per questa vicenda.